Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Nadia Urbinati, politologa della Columbia University di New York. Buonasera, bentornato Franco Bernabè, manager e presidente di Acciaierie d'Italia e buonasera, benvenuto Giovanni Flores, produttore qui sulla 7 di Di Martedì, che adesso siete in ferie. Allora, continuano, come avete sentito, le tensioni nella maggioranza di Giorgia Meloni, che oggi ha anche annullato il Consiglio dei Ministri che doveva varare la stretta del codice stradale. Che cosa sta succedendo? Subito dopo la pubblicità. Franco Bernabè, sono due giorni che la maggioranza di Giorgia Meloni è in difficoltà, le questioni sono tante, la questione della ratifica del MES, del decreto lavoro, le esternazioni del Ministro Nordio sull'evasione fiscale e in generale sulla giustizia. Oggi Giorgia Meloni ha fatto sapere nel pomeriggio di annullare, di voler annullare il Consiglio dei Ministri per sopraggiunti motivi personali. E così intanto il Consiglio dei Ministri non ha varato questa stretta del codice stradale che doveva rispondere in qualche modo alla tragedia provocata da questi youtuber di The Borderline. Allora, perché improvvisamente c'è questa fibrillazione nel governo Meloni? Ma io credo sia una fibrillazione abbastanza normale tenuto conto del progetto ambizioso che Giorgia Meloni ha. Cercherò di passare da un'opposizione militante di destra a destra a una fase di governo di destra centro. E quindi inevitabilmente con la necessità di riconciliare il mantenimento del supporto dei militanti con l'opportunità di allargare la sua base elettorale. Questo inevitabilmente provoca delle tensioni e delle sollecitazioni all'interno della sua maggioranza. Ma io credo che siano abbastanza transitori. Io non vedo nessun rischio per il governo di una situazione di emergenza causata da queste fibrillazioni. Sei d'accordo Giovanni Floris? Perché oggi tra le varie cose c'è anche la richiesta da parte delle opposizioni di dimissioni della ministra del turismo Sant'Anché per la gestione di alcune sue aziende. È stato tutto rivelato da una puntata di report su Rai 3. La Sant'Anché ha dato mandato ai suoi legali di tutelarla in tutte le sedi. Secondo te cosa sta succedendo? Io penso che se il governo Meloni facesse le cose che è portata a fare dalla propria cultura politica, dal proprio DNA politico, in qualche misura dalle promesse fatte durante la campagna elettorale, dovrebbe pagare il costo di trasformare molto in peggio il nostro Paese. Non vogliono pagare quel costo, però sono quelli. La difficoltà di essere se stessi e di governare il Paese in modo da non peggiorarlo li porta all'immobilismo, li porta ai rinvii. Se pensiamo al MES, l'ipotesi che venga rinviato ulteriormente il voto sul MES, bene così gioiamo tutti, perché se no verrebbe bocciato magari, se dovessero fare quello che dicono. E se venisse bocciato i problemi sarebbero grossi. Noi siamo arrivati al punto che gioiamo quando il governo non fa nulla. Si incontra Meloni con Macron, un incontro di routine normalissimo. Gioiamo perché si parlano, perché si salutano, perché l'alternativa sarebbe che litigano. E litigare con la Francia non è mai stato nel novero delle possibilità dei nostri esecutivi. Gioiamo se non si vota sul MES, perché il MES sarebbe scoppiare un problema enorme. Dal punto di vista reale scelgono di non incidere e questa è una buona notizia. Dal punto di vista ideale invece possono incidere, perché là sul campo delle parole nell'immediato ci preoccupiamo di meno, sono dei conti che pagheremo molto più in là. Allora abbiamo un governo molto di destra molto incisivo dal punto di vista valoriale, dal punto di vista dei simboli, della cultura e del linguaggio e particolarmente fermo dal punto di vista delle cose concrete da fare. E questo è un bene. Dopo la voglio sentire, se è d'accordo, dottor Bernabè Nadia. Urbinati, lei, perché da un punto di vista economico è vero che il governo Meloni sta agendo in continuità con Draghi e finora è riuscita anche a tenere a bada i suoi alleati che sono anche abbastanza riottosi ogni tanto. La situazione invece sta cambiando? Ma a me sembra, come Floris, che la situazione stia non cambiando per cambiare, perché prima o più dovranno prendere queste decisioni. Sono decisioni importanti per il nostro Paese. quello che riguarda la decisione che riguarda il MES e non soltanto. Le decisioni che riguardano il PNRR che ancora la Commissione sta trattenendo la terza rata, si prepara a decidere cosa fare con la quarta. Cioè il nostro Paese non è in una situazione facile. Ora in questo momento Meloni sta cercando anche di ottenere un nuovo ruolo all'interno della Comunità Europea, dell'Unione Europea ed è evidente che avrebbe lei tutte le buone ragioni, anche le opportunità o le utilità per avere una posizione anche sul MES che va in diretta contraddizione rispetto a quello che ha sempre detto. Quindi se vuole essere Giorgia Meloni, leader di una destra che guarda l'Europa non può fare quello che ha progresso di fare in campagna elettorale. Questo significa che è una destra che quando milita è capace di ottenere grandi consensi, però quando governa deve decidere se quei consensi deve mantenerli in quel modo oppure deve cambiare rotta. E se cambia rotta perde quei consensi, almeno da quella parte. Cioè è davvero una situazione per nulla ordinaria, non mi sembra sia una situazione ordinaria, di ordinaria routine questa. Non è di ordinaria routine, Franco Bernabè, lei è il più ottimista dei miei tre ospiti qui questa sera. È vero, citava entrambi gli ospiti il problema della ratifica del MES, l'Italia è l'unico paese che non ha ancora ratificato la riforma del Fondo Salva Stati e tra l'altro ricordiamo che tutti sono contrari nel governo di Giorgia Meloni, a cominciare da lei stessa che ha fatto una campagna elettorale solida contro il MES. Allora intanto questo può diventare rischioso e per i nostri rapporti con l'Unione Europea e anche per la stessa maggioranza? Oppure anche qui lei è abbastanza fiducioso che tutto si risolverà. Ovviamente non ho nessuna capacità di divinazione sul futuro, ma sono certo che il MES verrà ratificato anche perché... E come lo spiegherà Giorgia Meloni? E questo è il problema. Cercherà di farlo in agosto se possibile. Intanto vediamo di che cosa stiamo parlando. Il MES è un trattato che è stato firmato nel 2012 e che successivamente ha introdotto dei piccoli cambiamenti che riguardano sostanzialmente il fondo di emergenza per i salvataggi bancari. Quindi una cosa che serve. Teniamo presente che all'inizio il MES non lo voleva Germania perché era una forma di mutualizzazione del debito. Quindi è stato un vantaggio per l'Italia aver ottenuto il MES. Ma è vero che limiterebbe la sovranità nazionale italiana? Ma no, ma non limita assolutamente niente. Ma questo è quello che dice il governo. No, ma questa è una narrazione che è stata fatta in campagna elettorale e che Meloni cercherà di cambiare. Beh, mica tanto perché ha continuato a essere contraria anche nelle ultime esternazioni. Certo, ma la cambierà. Non c'è dubbio che la cambierà. Non può non ratificare il MES. E lo ratificherà. Anche perché è il cambiamento del MES rispetto al trattato originale. È marginale e tenuto conto di quello che è avvenuto con le banche negli ultimi mesi. Cioè la crisi di Credit Suisse, la crisi delle banche locali americane, eccetera, eccetera. Un fondo che abbia quello che tecnicamente chiamano il backstop. Cioè la rete di emergenza per il fondo di risoluzione banchiale conviene a tutti. Quindi lei ha bisogno di una scusa per giustificare il cambiamento del voto. Ecco, gliela può fornire lei una scusa? Sì. Non so, cosa potrebbe dire? Quello che farà, secondo me, poi ovviamente dirò a indovinare. Cercherà di ottenere un successo negoziato in Europa per il PNRR e dirà benissimo, ho portato a casa qualcosa e quindi a questo punto ratifico il MES. Ma cerca l'occasione per ratificarlo. E l'Europa le andrà incontro. E l'Europa le andrà incontro. Anzi, prima le dà l'occasione per poterlo spendere. Meglio sarà per tutti perché così ci togliamo dall'imbarazzo. Professor Urdubinate, Giovanni Floris. Vorrei a questo punto però invitarvi a pensare a questo. Noi abbiamo un governo che si è presentato agli elettori promettendo cose che il governo medè, cioè sapendo che se andava al governo non poteva mantenere. E noi oggi tranquillamente riconosciamo che tutta la campagna elettorale è stata fondata su una sonora balla, cioè su una promessa che non poteva essere mantenuta. Questo è gravissimo. Ma no, ma è grave, ma è meglio dell'alternativa. Aspetta, allora... È grave, ma è meglio dell'alternativa. Certo. È meglio dell'alternativa che effettivamente realizzino qualcosa di quello che hanno detto. Esatto. E allora diciamo, il problema si sposta su qual è l'alternativa a questo governo. non può realizzare niente, no? Ma l'Italia è un paese moderato, cioè quelli che andavano dietro alla Meloni che pretendeva queste cose qui. Il 5% della popolazione, la Meloni ha votato il 30%, il 25% di quelli che hanno votato la Meloni vuole una gestione sobria, ordinata, senza confusione e quindi è quello che sta cercando di fare la Meloni. Io temo che siano, diciamo... Tu peggio ci credi a questa svolta super moderata. No, non è una svolta, non può fare nulla, non può non prendere il mess, non può fare delle cose che aveva detto. Allora, se le facesse sarebbe un disastro, quindi accontentiamoci del fatto che non le fa. Il problema è che il paese non sta bene, quindi al paese avrebbe bisogno di qualcosa che venisse fatto in positivo. Noi ci stiamo accontentando del fatto che non distrugge i conti pubblici, ed è tantissimo, perché se avesse distrutto i conti pubblici, se fosse stata Giorgia Meloni degli ultimi non dico dell'ultima campagna elettorale, degli ultimi 10 anni, sarebbe stato un disastro. Il problema è che le Giorgia Meloni, i Salvini o anche i 5 Stelle dell'epoca dell'uscita all'euro vincono perché il paese sta male, quindi si aggrappa magari a una determinata protesta antisistema, vi sovvertirò, vi farò stare bene, che se non arriva quello, non tanto se non arriva il rifiuto del MES, perché gli italiani non è che ci tengono al MES, non prendiamo il MES paziente. Anche solo per spiegarlo è complicatissimo. Il problema è che gli italiani vogliono stare meglio, per stare meglio il governo Meloni dovrebbe ad esempio abbassare le tasse. Allora, ha abbassato le tasse? No, ha tagliato il cuneo fiscale fiscalizzandolo, cioè lo pagano altri, lo paghiamo tutti insieme e qualcosa per qualche mese, gli italiani non abboccano. Ha fatto qualche condono, mini condono fiscale. Ha fatto mini condoni, quindi può abbassare le tasse? Può fare quella flat tax di cui parlava? Può rifare il sistema fiscale? No, se non taglia le spese. Se taglia le spese che succede? Succede che i problemi arrivano. Ha tagliato qualcosa del reddito in cittadinanza? Quello pesa e peserà. Ha ragione Flores. Una narrazione sbagliata di Flores o è un'analisi lucida? Lui vede il bicchiere mezzo vuoto e io vedo il bicchiere mezzo pieno. No, io lo vedo mezzo pieno. Per fortuna non toccano i conti. No, ma assolutamente. Che l'Italia stia male non è vero. Cioè l'Italia negli ultimi 7-8 anni, grazie ai governi precedenti che oggettivamente, la cui azione beneficia il governo di Meloni, ha migliorato enormemente la sua posizione. Le imprese italiane sono molto più solide, le banche italiane sono tra le più solide a livello internazionale e sostanzialmente i conti pubblici sono per il momento in equilibrio. Poi in prospettiva ci avremo dei problemi, ma per il momento sono in equilibrio. Mi scusi, interrompo solo per chiedere, ma il fatto che abbiamo un'inflazione così alta, il fatto che le disuguaglianze sociali aumentino, sicuramente non stanno diminuendo? Basta vedere le reazioni. Negli altri paesi le reazioni sociali sono molto più forti di quanto non sia in Italia. Questo vuol dire prima di tutto che l'Italia ha un livello di sopportazione. L'Italia è un paese moderato, che ha un livello di sopportazione straordinario e quindi non reagisce. E quindi di questo Giorgia Meloni se ne può approfittare, ne beneficia per quello che diceva Floris prima. Ma il problema è che noi ci confrontiamo con una situazione degli altri paesi che è peggiore della nostra. Noi abbiamo il più basso livello di indebitamento delle famiglie rispetto al PIL, il più basso indebitamento delle imprese rispetto al PIL. La contropartita contabile di questa situazione è il fatto che abbiamo il debito pubblico più elevato. Ma è una situazione di equilibrio sostanziale dell'economia del paese che effettivamente ci ha consentito di crescere molto più degli altri. Ma e lo scenario per l'autunno? Lei come lo vede? Lo scenario per l'autunno è complicato. E infatti, mentre adesso io non vedo problemi, in prospettiva i problemi ci sono. Perché il gettito fiscale scende perché l'inflazione scende. Non perché l'inflazione aumenta, ma perché l'inflazione scende. Scende il gettito fiscale perché c'è un rallentamento dell'economia. Ma nello stesso tempo l'economia beneficerà di una trasformazione globale a livello mondiale che vede un riposizionamento delle produzioni in Occidente. Queste lamentele che io sento spesso, come per esempio questa vicenda della Germania che ha avuto l'investimento da Intel e che abbiamo perso noi. Ma noi non avremmo mai avuto i 10 miliardi da regalare a Intel. Non avremmo mai avuto neanche i tecnici che Intel occuperà in Germania. Ma avremo enormi benefici per il fatto che la Germania fa l'investimento. Visto che è il nostro partner più importante. Esatto, che è il nostro partner più importante. Quindi voglio dire, noi non ci dobbiamo lamentare così come ci rallentiamo. Allora, vi interpello subito lei, professoressa Urbinati. Infatti gli italiani, ha detto il dottor Bernabè, hanno un livello di sopportazione straordinario e quindi non ci sono rivolte di piazza. Pensiamo solo a quello che stiamo vedendo da settimane e da mesi ormai in Francia. E dice anche il dottor Bernabè che il gettito fiscale scende perché l'inflazione scende. Ma forse il gettito fiscale scende anche perché la lotta all'evasione fiscale non è tanto convincente. Perché abbiamo sentito delle dichiarazioni che hanno provocato reazioni e proteste non solo dell'opposizione. Professoressa Urbinati. Molti governi nel nostro paese hanno sempre usato quest'arma del non volere mettere le mani nelle tasche degli italiani in un senso o nell'altro. O perché non perseguono o non hanno mai perseguito fortemente gli evasori o perché hanno fatto politiche di alleggerimento. Non è l'unico governo che lo fa e forse non sarà nemmeno l'ultimo perché l'abitudine a chiudere un occhio per non vedere quello che avviene è un modo per rendere il nostro paese più capace di sopportare perché c'è una valvola di uscita, c'è una valvola di sfogo alla fine. Tuttavia questo è un problema gravissimo secondo me. E c'è anche consenso elettorale. E appunto che si sta creando veramente un blocco elettorale intorno a questo governo con l'idea che questo governo riuscirà a rendere il fisco amico. ma il fisco non è amico. Il fisco deve essere giusto, coerente al principio costituzionale e non può essere amico perché non sarebbe un fisco. E questo uso della retorica per mostrare che tutto va bene viviamo nel migliore dei mondi possibili e quindi dobbiamo essere solo grati di avere questo governo che è arrivato al governo mentendo quindi raccontando delle grandi bagianate che non può per fortuna si dice mantenere per fortuna ma ha vinto però su quelle promesse ricordiamocene. Quindi non vedo come ci sia tanta moderazione in questo perché ha vinto su premesse che sono fortissime in questo senso. Giovanni Floris, ti convince a te la narrazione del fisco amico e qual è la strategia di lotta fiscale del governo Meloni? Una parola sullo Stato generale. Diceva il dottor Bernabè giustamente le banche stanno bene, le imprese stanno bene gli italiani sopportano, no? E' un po' come quella barzelletta l'avvocato qui ti fregano e qua li freghiamo. E' vero, cioè il sistema ha un problema grande che distribuisce male fondamentalmente. Distribuisce male, pesa tutto sulle spalle di quei pochi che pagano le tasse. Siano ricchi o siano pochi, sono pochi a pagare le tasse. Quindi pesa tutto su un'estremità. Mentre il Paese vive di una sensazione diciamo il più delle volte di avere il diritto di non versare quella minima tassa che tocca a lui perché il problema, a differenza probabilmente di quello che dice non solo questo governo... Se la stessa Presidente del Consiglio dice che il fisco è troppo spesso, versatorio, ha parlato di pizzo di Stato in Sicilia... Molti degli italiani hanno la sensazione di avere il diritto di non pagare. Questo anche se al governo c'è uno che dice dovete pagare le tasse. Figuriamoci se c'è un Ministro di Grazia e Giustizia che dice ma in fondo le tasse chi le paga? Neanche un onesto riesce a pagarle. Ora, anche queste però sono atteggiamenti, non sono politiche fiscali, sono atteggiamenti da opposizione, sono gli atteggiamenti che negli inizi degli anni 2000 aveva Silvio Berlusconi che diceva io vi porterò in un Paese nuovo, in un Paese in cui non c'è bisogno di così tante tasse. Sono questi atteggiamenti un po' stantii che confliggono non tanto sui dati macroeconomici, secondo me, confliggono su uno stato d'animo del Paese che sempre più si è rivolto a chi offriva una soluzione scorciatoia e tra virgolette antisistema negli ultimi tempi. Si è rivolto al rottamatore giovane, si è rivolto prima all'imprenditore, ci penso io, poi al polso duro Salvini, poi alla donna che non c'era mai stata, al comico pazzo Grillo. Tutti gli italiani cercano sempre di scavalcare i problemi. Arriva a governare chiunque dica li scavalcherò io, poi si trova in mezzo ai problemi e affogano i problemi. Cosa tenta di fare? Di narrare, di raccontarsi in maniera diversa. Di narrare, ecco perché noi giornalisti dovremmo svolgere un ruolo fondamentale per la tenuta delle democrazie, però le voglio chiedere. Tanto l'Italia... No, ma dottor Bernabé. Ha ragione, Flores, ma è verissimo. Ma mi dica sull'evasione fiscale, perché è chiaro ormai a tutti che più vengono evase le tasse, meno soldi abbiamo per lo Stato sociale. Quando parliamo di evasione fiscale, in realtà parliamo di una cosa che si fa riferimento sempre ai 100 miliardi, che non sono... 90 adesso. O 90, che non sono le evasioni fiscali, sono il fiscal gap, che è una misura teorica di quello che, diciamo, tenuto conto del livello del PIL italiano, dovrebbe essere complessivamente il gesto fiscale. Ma lei le vede i dati sulla dichiarazione dei redditi? No, no, un attimo solo. Ha ragione, Flores, quando dice che l'IRPEF, non tutte le tasse, l'IRPEF, che è una componente del sistema fiscale, grava su una categoria sociale importante, che potrebbe rappresentare un grave problema per la Meloni, perché l'80% dell'IRPEF è pagato dai lavoratori dipendenti nella fascia di reddito tra i 30 mila e i 70 mila euro. Cioè, nella classe media italiana, la classe media italiana, lavoratrice, paga l'80-90% dell'IRPEF. Il problema della fiscalità è cambiato radicalmente rispetto al passato, perché sono stati fatti investimenti colossali. Se oggi tu accedi al tuo cassetto fiscale e ti trovi la dichiarazione dei redditi, ma ti trovi anche tutta una serie di altre informazioni che il fisco oggi ha e dieci anni fa non aveva, cinque anni fa non aveva. Ma perché ci ricorda questa cosa? Ma perché? Perché una delle cose che ha fatto il governo è stata di consentire al fisco di unificare le banche dati che praticamente misurano qualsiasi cosa noi facciamo. Quindi il fisco è in grado di sapere esattamente quanto ognuno di noi guadagna e quindi basta attivare questo e l'evasione fiscale sparisce. Basta volerlo. Basta dare il mandato all'agenzia delle entrate e dare i dipendenti. esatto. Basta dare il mandato. E' certo, che è sempre il problema antico nel nostro paese. Senti Giovanni, ricomincio da te perché voglio fare un ulteriore giro con voi sulla questione dell'informazione della comunicazione del mondo della televisione. Tu hai chiuso una stagione di grande successo con Di Martedì tornerai a settembre e come lo vedi questo autunno della comunicazione del servizio pubblico leggiamo di grandissime manovre di tanta concorrenza che ci arriverà? Sono due discorsi che bisogna fare probabilmente uno di sistemi uno che riguarda uno che riguarda l'azienda Rai sono aziende cui immagino tu io tutti rimaniamo sempre legati escono dei nomi prima che si siano scelti i loro sostituti escono per loro volontà escono perché spinti non è tanto quello il punto e non c'è una strategia che porti a assicurare a una serata della Rai il 12% che aveva all'ora di pranzo e questo favorisce probabilmente anche noi perché avremo più pubblico da andare a pescare in determinate serate questo sembra un po' quell'atteggiamento istintivo che però non ha solo questo governo hanno avuto ultimamente tutti i governi che arrivano e la prima manifestazione è una manifestazione quasi di rabbia verso quello che c'era prima questo no poi si vedrà che cosa comunque sempre un po' di nervosismo nei confronti della stampa critica ma questo è un altro discorso infatti questo è più probabilmente adatto al dottor Bernabè il primo che ho fatto quello di strategia di mercato il discorso invece di narrazione politica io oggi vedevo in un Tg addirittura c'era un brano di un intervento a un convegno di Giorgia Meloni mandato così ha detto questo partecipando a un convegno senza neanche commento proprio passano le informazioni questo è anche un Tg di molti governi forse più recenti sono i governi e più questo Tg è sviluppato emancipato una volta si tentava almeno con una diciamo sana ipocrisia di coprire queste cose e si è proprio smaccato è così l'informazione gira per noi non ha mai premiato nessun governo nessun italiano mai abbocca le narrazioni io penso che gli italiani stanno attenti al dato almeno non nel lungo periodo all'inizio serve più come scusa a chi ha votato il governo non parlo di quello di Giorgia Meloni ma è più un derby a casa tra chi ha votato uno e chi ha votato l'altro e quello dice vedi lo dice pure il Tg e l'altro dice ma il Tg è tanto comprato e sono dei giochi che nel medio lungo periodo scompaiono è d'accordo dottor Franco Bernabé lo chiedo a lei che conosce molto bene anche il mercato televisivo il mondo della televisione e dell'informazione e lei ha conosciuto molto bene anche Silvio Berlusconi quali sono le partite più importanti che si giocheranno nei prossimi mesi in questo cruciale settore guardi per il mercato televisivo direi che è una stagione straordinariamente positiva perché non tanto per la produzione diciamo per la parte trasmissiva ma soprattutto per la parte dei contenuti c'è un'esplosione della domanda di contenuti di cui beneficia anche il nostro paese gli investimenti che sono stati fatti o che vengono fatti recentemente a Roma perché non ci sono studios in giro per l'Europa quindi chi produce contenuti ha una grande opportunità perché le piattaforme vogliono contenuti la domanda dei contenuti è molto diffusa quindi è un momento di grande entusiasmo e di grande potenzialità per il mercato televisivo Meno per l'informazione Meno per l'informazione Adesso le dico su Mediaset la mia opinione ma ovviamente non sono addentro a nessun segreto ma per quanto riguarda l'informazione c'è un problema grande come una casa di cui forse vale la pena parlare che è l'intelligenza artificiale credo Bill Zeitung ha deciso di licenziare o credo che sia Bill Zeitung comunque un editore tedesco ha deciso di licenziare i giornalisti e di far scrivere gli articoli a chat GPT o a un'altra piattaforma di intelligenza artificiale quindi diciamo è un mondo dove ci sono due tendenze molto radicali che si confrontano per quanto riguarda Mediaset Mediaset vive una stagione abbastanza tranquilla ma gli eredi di Berlusconi venderanno entrerà Bolloré in modo più forte che succederà? quello lo escludo escludo che Bolloré entri non credo che avrà la possibilità dopo quello che è successo di acquisire Mediaset peraltro non credo neanche che gli eredi di Berlusconi vogliano vendere Mediaset peraltro quindi abbiamo adesso uno scompenso diciamo a proposito di conflitto gli eredi di Berlusconi hanno un altro problema c'è Forza Italia che ha 90 milioni di debiti nei confronti di Fininvest dai quali deve rientrare però gli eredi pare che se lo accoglino questo debito non credo proprio non crede? ma non credo e comunque quello che di sicuro il problema che resta a noi cittadini e cittadini è il solito conflitto di interessi e così adesso ci sono sei canali ci saranno sei canali controllati questo secondo me lo risolve sempre il mercato cioè se sei canali dicono la stessa cosa non voglio fare un numero a caso però c'è sempre un canale che poi offre un servizio diverso e poi ci sono sempre anche dei giornalisti che fanno bene il loro mestiere allora uno che fa sempre bene il suo mestiere da tantissimi anni è sicuramente Paolo Pagliaro vi faccio vedere il suo punto che ci riporta all'agenda di governo e alle riforme guardate nel sondaggio di questa settimana Demopolis ha chiesto quali sono le riforme più urgenti il 66% risponde alla riforma del fisco il 61% la giustizia pensando prevalentemente alla riduzione dei tempi dei processi civili il 56% vorrebbe che funzionasse meglio la pubblica amministrazione il 38% segnala la legge elettorale in fondo alla classifica ci sono le riforme di cui si parla di più il presidenzialismo premierato e l'autonomia differenziata quest'ultima sta a cuore a meno di 2 italiani su 10 bocciatura senza appello anche per l'attuale legge elettorale che non piace al 75% dei cittadini nonostante il disinteresse per le riforme istituzionali quando è invitata a esprimere un giudizio di merito l'opinione pubblica si divide il 48% è favorevole all'elezione diretta del premier da parte dei cittadini il 37% è contrario spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento che si tratta di valutazioni in evoluzione che si sono fortemente polarizzate nelle ultime settimane sono favorevoli all'elezione diretta 7 elettori su 10 di centrodestra ma appena un quarto tra quanti votano centrosinistra la maggioranza relativa è favorevole perché così si può scegliere direttamente chi guiderà il paese ci sarà maggiore stabilità politica e si saprà chi decide cosa ma significativi sono anche i timori sui possibili effetti negativi il 51% la maggioranza assoluta teme il rischio di concentrazione del potere nelle mani di una persona sola quasi 4 su 10 vedono nel premierato un possibile incentivo all'autoritarismo il 35% teme infine la riduzione dei poteri del Parlamento e del Presidente della Repubblica Siamo in chiusura grazie professoressa Urbinatti grazie Franco Bernabè grazie Giovanni Floris grazie spettatrici spettatori e vi lascio a piazza pulita dal film inchiesta i fuori legge quindi restate con noi e noi ci vediamo domani come sempre arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.